Si chiude ad Aprilia contro la Lupa Roma il campionato dell'Aquila Calcio. Sarà in realtà solo l'inizio di un maggio di fuoco che porterà il Rosso Blu a giocarsi la Lega Pro ai play-out. Solo dopo i risultati delle dirette concorrenti si saprà l'avversaria degli spareggi, anche se è sempre più probabile che sia una tra Rimini e Prato. L'Aquila arriva all'appuntamento in terra laziale dopo una settimana in cui è successo di tutto e di più. Dall'esonero clamoroso di Giacomo Modica, dopo soli 20 giorni dal suo insediamento in panchina, fino al ritorno di Carlo Perrone, che però ha voluto stavolta al suo fianco un'altra vecchia conoscenza del calcio rosso-blu. Carlo Susini, ex tecnico dell'Aquila ai tempi dell'eccellenza, è tornato per fare da consulente tecnico con l'obiettivo di ricompattare un ambiente sull'orlo di una crisi di nervi. A questo aggiungiamo tensioni in allenamento che si sono verificate tra alcuni giocatori ad inizio settimana. I tifosi intanto stanno provando a mettere da parte rancori e polemiche per provare a sostenere un'ultima volta la squadra di Perrone. Per i processi ci sarà tempo dopo gli spareggi, ora è quanto mai fondamentale giocarsi con tutte le forze la permanenza in Lega Pro, raggiunta negli anni passati con grande fatica dopo stagioni nel dilettantismo. Per prepararsi alle due partite da vita o morte, i rosso-blu devono intanto provare a riconquistare un po' di fiducia in loro stessi proprio domenica contro la Lupa Roma. Dal punto di vista della classifica, basterà non perdere con più di un gol di scarto per evitare la beffa di essere scavalcati proprio dai laziali e terminare il campionato non più al terz'ultimo, bensì al penultimo posto. Sul fronte formazione Perrone potrebbe optare per la conferma della difesa 4 forgiata dalla brevissima gestione modica. Tra l'altro, proprio in difesa, il tecnico romano avrà due defezioni importanti, Nicola Cosentini per squalifica e Giordano Maccarrone per i problemi alla schiena che lo hanno messo KO contro la Lucchese. Potrebbe invece tornare almeno in panchina Emanuele Pesoli che in settimana si è allenato con la squadra. Mancherà invece in attacco Salvatore San Domenico squalificato per tre turni dopo l'espulsione di domenica scorsa. La società ha deciso di non fare ricorso dunque per San Domenico, capocannoniere dei Rossoblu con 13 reti, la stagione e le esperienze in Maglia Aquilana si possono già definire concluse. L'Aquila dovrà quindi provare a salvarsi senza i guizi dell'attaccante campano.